Siglato questa mattina l'accordo preliminare per la bretella di collegamento tra Acropoli ed Eboli. Alla firma del preliminare nella sala giunta della Regione Campania, oltre al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l'amministratore delegato di ANAS Gianni Vittorio Armani, anche il Sindaco di Acropoli Adamo Coppola e il già capo staff della Segreteria di De Luca, Franco Alfieri. Questa bretella nelle intenzioni darà un nuovo respiro alle aree turistiche a sud di Battipaglia. E' un collegamento stratale veloce tra la strada A2 del Mediterraneo e la variante alla strada statale 18 ad Agropoli, previsto nel patto per lo sviluppo della Regione Campania. Il progetto prevede il collegamento Agropoli A2, svincolo di Contursi, mediante una strada a scorrimento veloce, lunga oltre 32 km, che dallo svincolo di Agropoli Sud della strada provinciale 430 attraversa i comuni di Agropoli, Capaccio, Albanella, Altavilla, Silentina, Serre ed Eboli. L'ANAS bandiera alla gara che darà il via alla progettazione. Il costo della progettazione preliminare è di 1,6 milioni di euro. Sono previsti 7 svincoli, 4 dei quali da realizzare ex novo.